Gianluca Bacchi e Valerio Giunti Abbiamo organizzato questo torneo, abbiamo perché poi le persone coinvolte sono ovviamente molte di più di quelle qui presenti Penso che sia venuto bene, i partecipanti erano un centinaio tra genitori e ragazzini Il livello era buono perché l'ultima partita tra Perugia e Falconara è stata una bellissima partita Lottata al terzo set con un buon livello tecnico, quindi penso che siamo tutti soddisfatti e tutti contenti Gianluca, allora, Gerardi, Cartoedit, Sir Safety, Bastia, Perugia, Falconara e Cortona Centro Italia un po' ristretto però di sostanza come diceva anche Valerio Tutte belle realtà della palla a volo, tutti i campioni più o meno regionali della passata stagione Quindi un bel livello tecnico sicuramente, si è visto anche in campo un bel gioco E niente, ci dobbiamo adeguare a questo livello tecnico anche noi E tra l'altro anche a livello societario dovremo restituire il favore Insomma, sarà più difficile organizzarlo per Falconara Però quando gli altri vengono bene o male bisogna anche rispondere presente Bisogna vedere la disponibilità anche del tempo e tutto quanto Però se si può, si fa Tu sei un dirigente che sta dietro molto a questa Under 15 Bisogna crescere, l'abbiamo visto, però ci sono buone potenzialità Potenzialità ci stanno, come dicevo anche l'anno scorso e come ribadisco Vanno solo amalgamate e fatte in qualche maniera esplodere e concretizzare L'ultima battuta Valerio Cosa si deve fare per far aumentare il tasso tecnico Sicuramente allenamenti, allenamenti e quant'altro Però anche queste, le chiamiamo conviviali tra giovani, servono, vero? Sì, è importante conoscere le altre realtà Perché non si può fare pallavolo ovviamente nella propria palestra Capire un livello tecnico, soprattutto di scuole di pallavolo di prestigio Come può essere Falconara Ti dà la temperatura di quello che stai facendo tu E quindi quanti gradini devi salire per poter arrivare a giocarti Un buon livello di pallavolo Questo è ovviamente lo scopo di questi tornei Cioè non è che si fanno per le classifiche eccetera Ci si misura con gli altri Diventa uno scambio anche di know-how Insomma di tecnica e di informazioni E quindi insomma benvengano E soprattutto oltre nel maschile Verranno fatte sicuramente anche nel femminile Sicuramente ci voleva gente Ci voleva una società che rispondessero presente A chi è organizzato Francesco, mi sembra che il livello under 15 Oggi con Falconara, Cortona E poi abbiamo visto anche Perugia E poi anche con la Gerardi Cartoedi Che sicuramente ha bisogno di interfacciarsi anche con altre realtà Sia buono, no? Sì, era l'auspicio principale Confrontarsi con le squadre più forti Noi eravamo under 14 Però il torneo era under 15 Abbiamo chiamato i campioni regionali dello scorso anno Della Toscana, Marche e Umbria E le prime due partite Cioè tutte le partite sono state abbastanza vincenti E' stata una buona giornata di pallavolo E di esperienza per i giovani La mettiamo da parte come giornata di esperienza costruttiva? No, la cosa principale era quella lì Prima partita tutti insieme Contro squadre già più forti di noi Io parlo per noi Gerardi E quindi era difficile Era difficile di suo le squadre Poi la prima volta tutti insieme E' stata un po' complessa Chiamare le squadre vincitrici regionali E delle altre ragioni Beh, è sicuramente anche un bel impegno organizzativo Sì, assolutamente No, la nostra idea Cioè la mia E dei Gianluca Bacchi De Valerio Giunti De La Sara Del Corto E la nostra idea era confrontarsi con i migliori Cioè la mia idea E' confrontarsi sempre con i migliori Perché se perdo con i migliori Sarò il più scarso dei migliori Però sono sempre tra i migliori Confrontarsi con quelli un pochino più deboli Vedremo Quello lì Un altro giorno Ancora tanto lavoro Quello sempre Anche se uno è al top Sì, sì Sempre Poi soprattutto Giovani Le prime esperienze Qualcuno poco disciplinato C'è da fare un pochino Allora in bocca al lupo Buon lavoro Grazie Crepi E' stata nominata Giustamente Sara Del Corto Un'altra Del team organizzativo Di questa Under 15 Prima con Valerio Si è sentito dire Beh Questo è il maschile Poi dovremmo aprire anche il femminile Qualche bel torneo di questo livello Eh sarebbe una cosa interessante Questa è un'idea nata da Francesco Dall'allenatore Da Moretti Che è venuta bene direi insomma Si è rimasta sorpresa no? No, no Si è rimasta sorpresa Però come primissima esperienza Di questo genere Direi che insomma C'è stato un bel successo E come dicevano anche gli altri Che ti hanno preceduto Prendiamo tutte le situazioni positive Che hanno offerto anche le altre squadre Certo Senza dubbio Poi credo che lo scopera Quello di dare campo ai ragazzi E di confrontarsi con realtà Al di fuori di quelle Che possiamo incontrare quotidianamente Quindi insomma A Città di Castello Siamo sinceri C'è spazio sicuramente per far meglio Ma c'è spazio da tutte le parti Per far meglio Ma c'è spazio per lavorare no? Si sicuramente Sicuramente Abbiamo un settore giovanile In costante crescita Lo dobbiamo ai ragazzi Offrire a tutti La possibilità di esprimersi Sul campo da pallavolo Dalla palla rilanciata Ai ragazzi più grandi Dalla palla rilanciata Dalla palla rilanciata La possibilità di esprimersi